Permettetemi di dire una cosa in italiano per chi ci sta seguendo in streaming e manderà queste immagini dopo. L'Italia ha una grande occasione e l'occasione dell'Italia è fare l'Italia, smettere di piangersi addosso e provare concretamente nei mille giorni che vengono a cambiare faccia, anzi per dirla con un'espressione da tecnocrati e tecnologici più che tecnocrati, a cambiare interfaccia. L'Italia deve cambiare faccia e cambiare interfaccia. Per farlo noi stiamo mettendo tutto ciò che possiamo mettere in campo, noi faremo le riforme che abbiamo promesso a livello istituzionale, ma la prima riforma è creare spazio e posti di lavoro per i nostri ragazzi. Oggi il settore dell'innovazione non è un settore per addetti ai lavori, non è un settore per alcune persone che si limitano a smanettare su internet, è il settore che crea più posti di lavoro nella storia dell'economia internazionale. Allora l'Italia deve avere il coraggio di smettere di piangersi addosso e provare concretamente a cambiare, sia nella parte interna, la burocrazia, la giustizia, possono essere aiutate dall'innovazione tecnologica, sia anche, lasciatemelo dire, dalla capacità dei nostri ragazzi di iniziare a far crescere le idee e smettere di pensare che questa sia la terra dove non succede mai niente. Perché l'esperienza di tante persone che sono a questo tavolo dimostra che invece in Italia le cose accadono e accadono anche in modo molto affascinante.